Agroalimentare, tessile ma soprattutto trasporti. Sono i settori economici sui quali punteranno gli imprenditori italiani ed egiziani per rilanciare l'economia sfruttando il Mediterraneo. Un'occasione resa possibile grazie al progetto ACUPI Italmed Egitto, capofila del progetto a cui hanno aderito otto regioni italiane, l'autorità portuale del Levante. La cooperazione interregionale permetterà di sviluppare gli strumenti operativi per la creazione di nuovi accordi economici partendo dai traffici dedicati all'import-export. Questo crea nuove opportunità uniche per i produttori del sistema Italia perché avranno da una parte la possibilità di gestire questi flussi in modo che non danneggino le produzioni italiane. Dall'altra saranno loro stessi in grado di poter ampliare le loro produzioni e dunque la commercializzazione nella cooperazione con l'Egitto giocando anche sullo sfasamento delle culture che è dovuta allo leggero differenza climatica. Capitolo a parte merita il settore trasporti. Già si sta lavorando per la creazione di nuove linee marittime per il potenziamento di quelle esistenti. Grazie. Grazie.